Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, nelle ultime due settimane ho provato molto intensamente iPhone 11 Pro Max, vi racconto come è andata. Ho voluto aspettare un paio di settimane prima di proporvi un video di iPhone 11 Pro Max perché ho voluto davvero utilizzare in modo intenso tutte le sue nuove caratteristiche e soprattutto verificare quale impatto ci fosse con iOS 13 su un nuovo iPhone. A distanza di queste due settimane vi posso dire che questo è un prodotto molto soddisfacente in molti dei suoi aspetti, forse esistono due o tre dettagli per cui potrebbe sicuramente migliorare. Non cercherò di convincere voi che siete appassionati di Android ad affezionarvi ad un telefono come quello di iPhone che per molti di voi potrebbe essere un po' troppo rigido nella sua gestione e poi soprattutto nel suo ecosistema. Ma per coloro che hanno sempre usato iPhone questo è davvero un passo avanti importante. Comincio con il design. Se ne è parlato tantissimo di questa finitura opaca con una parte invece lucida intorno alle fotocamere. Diciamo che mi sono abituato piuttosto velocemente a questo design e oggi mi fa quasi un po' strano comparare invece il vecchio iPhone lucido e tutto sommato mi sono abituato anche alla posizione del simbolo della meletta, della mela morsicata di Apple in una posizione inferiore. Questo nucleo delle fotocamere è sicuramente molto importante per Apple. quando si apre la scatola è la prima cosa che compare, il telefono proprio è posizionato in modo che si veda immediatamente il triplo nucleo della fotocamera. Sulla parte frontale nulla da dire, il telefono è identico a se stesso, è difficilissimo, quasi impossibile riconoscere iPhone 11 da iPhone XS Max. Diciamo che da questo punto di vista ci aspettiamo probabilmente miglioramenti il prossimo anno. Siamo al terzo anno più o meno con lo stesso design, il prossimo dovrebbe essere quello dei grandi cambiamenti. Il dettaglio che diventa subito molto percepibile di questo telefono è il peso, perché più di 220 grammi diciamo che sulla mano si fanno sentire e non vi nascolto che mi sto un po' allenando a questo utilizzo di una sola mano con il telefono. Ecco a proposito, l'utilizzo con una sola mano di iPhone 11 Pro Max, così come era per iPhone X Max, è un po' complicato. Bisogna avere una capacità di muovere il pollice superiore, secondo me, alla media per riuscire ad usare questo telefono con una sola mano. Supplisce però questa difficoltà il fatto che tutto sommato molte cose si possano fare con Siri e con la voce. Ci sono delle novità importantissime introdotte da iOS 13 e tra queste il fatto che non ci sia più il 3D Touch. Devo dire che con la nuova funzionalità, per cui su qualunque iPhone, premendo a lungo, si ottengono delle scorciatoie per le singole applicazioni, tutto sommato non fa sentire tanto la mancanza del 3D Touch. Migliora tantissimo il display. Questo è un dettaglio, secondo me, veramente impressionante. È vero, c'è il notch, che a molti di voi potrebbe non piacere, però guardate che la luminosità, la lucentezza, il contrasto di questo display sono veramente da competizione. C'è un piccolo problema, però, che dipende da una incompatibilità tra software. Quando si guarda YouTube, purtroppo, si possono guardare solo video in Full HD. Non si può andare ad una definizione superiore, proprio perché, insomma, Apple e YouTube si litigano un po' il tema dei codec utilizzati per la riproduzione di video. C'è un altro dettaglio, che non è indifferente, soprattutto per la categoria di questo prodotto, che è quello del refresh rate del display. Mi sarei aspettato un refresh rate più alto, stanno arrivando prodotti adesso di alta gamma, con una velocità di refresh molto elevata. Difficile dire che sia una funzione fondamentale. Sicuramente è un accessorio di cui si può fare a meno, ma quando ci si abitua a telefoni, come ad esempio OnePlus 7 Pro, che ha un refresh rate molto alto, puoi tornare indietro, fa notare la differenza negli scattini, nella velocità delle animazioni. Ancora una volta, un dettaglio che non è essenziale nell'uso del telefono, ma che tutto sommato ha un suo perché. Uno dei punti di miglioramento impressionanti di iPhone 11 Pro, nella sua versione normale e anche nella versione Max, però diciamo che la vera differenza si vede soprattutto nella versione Max, è la batteria. Sappiamo che ci sono quasi 4.000 mAh della batteria, è una delle ragioni per il peso di cui parliamo prima. Io arrivo a sera con un uso tutto sommato normale del telefono, con almeno il 40% di batteria residua, e se lo uso veramente tanto, 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 arrivo tutto sommato con una batteria che ha un'autonomia residua di circa il 20%. Mai successo una cosa di questo genere con un iPhone prima d'ora, dal punto di vista della batteria, tanto l'ottimizzazione del processore A13 Bionic, poi ne parleremo, quanto il fatto che ci sia una capacità superiore, insomma la miscela di queste due cose ha portato ad un'autonomia veramente da competizione. Non vi servirà assolutamente più il tema di riportarvi dietro battery pack ogni 2x3. C'è una novità anche per quanto riguarda la carica della batteria, sappiamo che la batteria wireless, cioè la ricarica wireless rimane a 7,5 W, dentro la confezione adesso finalmente c'è una carica batterie con una capacità superiore, quella di 28 W, c'è anche la ricarica della batteria intelligente, per cui viene usata la velocità elevata di ricarica fino ad arrivare ad una certa percentuale, poi c'è una ricarica con velocità normale fino all'80%, a quel punto la ricarica viene interrotta e riprende solo in modo intelligente quando state per cominciare ad utilizzare nuovamente il telefono. È quello che abbiamo visto anche su alcuni telefoni di Sony in passato, diciamo che è un modo per preservare la batteria più a lungo. Apple ha dichiarato in modo molto chiaro che non usa vattaggi più alti per salvare la batteria nel lungo periodo. Tutto sommato con 30 minuti di batteria si va oltre il 50% di ricarica e quindi credo che si possa essere più che soddisfatti dal punto di vista dell'autonomia. Fotocamera. Ecco, le tre fotocamere hanno fatto molto discutere, molti hanno ad esempio preso i soli 12 megapixel come un tema che poteva essere problematico. Io vi dico che queste fotocamere sono veramente eccezionali. L'uso dell'intelligenza artificiale nella fotocamera è addirittura superlativo per alcuni aspetti, ma ci arriviamo tra un attimo. Intanto vi dico, tre sensori da 12 megapixel con una taratura del colore perfetta tra i tre diversi sensori, anche con un'apertura diversa c'è praticamente un passaggio invisibile da una fotocamera all'altra, mentre spesso con altri prodotti sul mercato vi rendete conto di quanto voi passate da una fotocamera all'altra. In questo caso sensori con tarature dunque perfette, purtroppo la qualità delle immagini spesso non si riesce nemmeno a gustare fino in fondo, perché la stragrande maggioranza dei browser non vi fa vedere la gamma di colori completa e quindi non si ha la possibilità di gustare la forza, la capacità di iPhone di scattare fotografie davvero molto belle. L'uso dell'intelligenza artificiale viene messo in pista in particolare quando si usa la modalità notturna, qui la modalità notturna non si può selezionare manualmente ma interviene automaticamente, una volta che interviene poi si può scegliere quale taratura utilizzare, ma la cosa eccezionale è vedere come lavora l'intelligenza artificiale, perché se io scatto una foto in un ambiente buio viene elevata la luminosità di tutto l'ambiente, ma quando scatto la foto ad una persona in un contesto buio, ad esempio vicino ad un monumento, viene elevata la luminosità solo della persona e tutto il resto viene mantenuto con una luminosità, diciamo naturale. Certo, molti di voi potrebbero preferire gli scatti di Huawei P30 perché in effetti hanno un effetto almeno all'occhio, cioè danno un risultato molto più eclatante, iPhone e Apple in generale preferisce sempre delle foto con luci più naturali. Devo dire che io gradisco molto questo tipo di approccio in cui il colore che viene catturato in fotografia è lo stesso che vede il mio occhio. 12 megapixel dunque anche sulla fotocamera anteriore, tra l'altro quando non si gira in HDR tutte le fotocamere sono in grado di girare con 4K e 60 frame al secondo e il risultato dei videoclip è semplicemente straordinario, non c'è nessun altro prodotto che sappia girare video di questa qualità. Sottolineo tra l'altro anche l'utilizzo della stereofonia nella registrazione dell'audio che ha un risultato finale molto bello. Provate a dare un occhio a questo video! Allora Luca 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 Luca. Ti sei preparato per Mille chitarre in piazza? La chitarra l'hai presa? ho qua gli strumenti per mille chitarre in piazza guarda ho portato il mio kit per mille chitarre in piazza sono pronto, apro il kit del partecipante a mille chitarre in piazza e guarda ho ad esempio la maracas, no no non servono, mille chitarre in piazza, mille chitarre in piazza è una maracas, no via la maracas ho i legnetti, però posso accompagnare con i legnetti, no c'è nel senso che no niente legnetti, non è mille chitarre in piazza è due legnetti, mille chitarre in piazza a Monza, però potrei anche stupirti con, cioè campanello, cioè questo questo me l'hai rubato, perché questo è sempre rubato secondo me l'ho rubato in chiesa no no, c'è quelle robe attaccate tipo l'ho rubato in chiesa questi oppure ho il colpo di grazia cioè ho il colpo, cioè fenomenale a questo l'hai rubato veramente alla bicicletta quando tutti suonano, cioè vuol dire se lo so allora, cari radioscoltatori di Radio Number One, domenica quando verrete a trovarci a Monza o Monza preferisci? Come voi come preferisci? Come volete voi, non c'è problema portate una chitarra per Luca perché mille chitarre in piazza senza chitarra mille chitarre in piazza e un campanello! Quello che probabilmente avete visto è che quando è intervenuto la mia collega Laura Basile di Radio Number One, c'era proprio una spazialità del suono seguendo il suo movimento intorno alla fotocamera. Fotocamera tra l'altro che ha anche un'altra novità importante, cioè ha un nuovo interfaccia io devo dire che non amo molto il fatto che i settaggi della fotocamera siano da un'altra parte, no? Voi sapete dovete uscire praticamente dal menu principale andare al menu del telefono delle impostazioni e solo qui trovate il menu della fotocamera questo non mi piace molto, però quantomeno è migliorata anche l'interfaccia vedete con uno swipe verso l'alto potete selezionare alcune delle funzioni della fotocamera e tra l'altro per la prima volta finalmente si può scattare in 16 noni in maniera nativa anche su iPhone ecco, sulla fotocamera che magari ad alcuni potrebbe non piacere tantissimo per alcuni dettagli io ad esempio vedo che lo scontornamento se si può dire, dei soggetti in alcuni casi non è proprio perfetto ci sono altri telefoni che riescono a farlo in modo più preciso, però in linea diciamo generale questa fotocamera è un salto in avanti veramente eccellente bella anche la fotocamera come detto frontale tra l'altro sono state aggiunte anche delle modalità per i ritratti che sono migliori rispetto a quelle del passato l'algoritmo che proprio fa la modalità ritratto di iPhone è migliorato sensibilmente quindi diciamo sulla parte fotocamera tanto per le foto quanto per i video adesso abbiamo veramente un prodotto eccezionale cito l'ultimo dettaglio quello del processore A13 Bionic che abbia visto tutti i dettagli tecnici io non sto entrando tanto nelle definizioni tecniche di iPhone perché sono passate diverse settimane dalla sua uscita quindi non voglio tediarvi potete trovare qualunque informazione su Google o su milioni di videoclip che sono in circolazione però questo processore è veramente incredibilmente più potente non esageratamente questo è da dire ma forse perché già 12 Bionic era molto potente per farvi un'idea un video che con il processore precedente avevo editato in circa 20 minuti l'ho editato in 17 su questo prodotto quindi un miglioramento intorno al 15-20% più o meno delle prestazioni ovviamente è un salto in avanti ma non è una cosa abissale quando si gioca questo è un processore che dà soddisfazione soprattutto perché il telefono non si riscalda particolarmente l'unico momento in cui vedo che si scalda un po' è quando si usano i caricatori wireless magari di provenienza un po' incerta ecco in quel caso non solo si scalda un po' il telefono ma tra l'altro iPhone adesso limita la velocità di ricarica a soli 5 Watt però insomma in linea di principio vi dicevo il processore veramente velocissimo molto più veloce anche il Face ID rispetto al passato e il funzionamento del telefono insomma ha questa garanzia di unione tra processore potente e software efficace che danno ottimi risultati a proposito di software iOS 13 ancora un po' di bug abbiamo visto molti aggiornamenti nelle ultime settimane perché si sta un po' inseguendo una perfezione che ancora non è arrivata ci sono novità carine come il copy and call usando le tre dita ci sono delle novità all'interno proprio di iOS 13 la modalità dark ad esempio che tutto sommato secondo me fanno risultare questo telefono veramente molto carino come detto non c'è più il 3D touch ma è sostituito da una funzione che praticamente va allo stesso modo abbiamo detto il cursore ad esempio che si può gestire in modo più semplice c'è una tastiera che finalmente ha la modalità swipe molte altre l'avevano già da tempo adesso finalmente viene introdotta in modo nativo anche da iPhone insomma io trovo che questo iPhone 11 Pro abbia una qualità in dubbia certo ci sono delle cose che sono assolutamente migliorabili io trovo ad esempio che la linea Pro debba avere la porta Type-C e non una Lightning proprietaria questo è sicuramente un aspetto che è oltremodo migliorabile 64 giga di taglio di memoria pur essendo sufficienti per molte persone sono probabilmente non all'altezza del posizionamento premium di iPhone però non vi nascondo che io lo scrivevo prima di provarlo l'ho verificato nel tempo anche durante queste due settimane di prova molto ma molto intensa continuo a pensare che iPhone sia in assoluto il telefono da battere e voi cosa ne pensate?